Sindaco Sansevero non è solo aggressione e criminalità? Assolutamente no, il deprecabile episodio di ieri che è avvenuto in un quartiere della mia città non è assolutamente rappresentativo della comunità di cui sono primo cittadino ecco perché la violenza non può mai trovare giustificazione non trova giustificazione io credo nella stragrande maggioranza se non nella totalità della mia comunità per questo ho formulato la solidarietà ai poliziotti e al giornalista aggredito l'ho invitato a tornare la mia comunità, i sanseveresi sono di norma gente ospitale amici di tutti, accoglienti quindi quell'episodio assolutamente deprecabile non è rappresentativa del tessuto sociale della mia città per questo credo che era giusto prenderne le distanze ed esprimere la solidarietà al giornalista e ai poliziotti che sono stati aggrediti grazie